Robinson e il genio Robinson, l'apprendista aiutante di Mago Ciliegio, è un criciatino tranquillo e molto molto studioso. Ama passare i suoi pomeriggi a leggere libri di storia magica, sorseggiando pozioni per la memoria al gusto di lampone. Oggi andrà in gita con il maestro Ciliegio, in visita al parco archeologico del grande bosco. — Vedi quegli alberi laggiù? Lì vivevano i primi maghi della storia, discendenti dai famosi maghi egizi, spiega Ciliegio, indicando a Robinson una fila di alti chiome color argento. — Ma a cosa serve la pala? chiede Robinson, sempre più curioso. — Vedi quella piccola piramide? È magica, ma nessuno l'ha mai esplorata. Coraggio, liberiamo da terra e foglie il vialetto davanti alla pietra che ne chiude l'ingresso. — Esclama Ciliegio. Ciliegio e Robinson si trovano davanti ad una grande, grande pietra rotonda. — E adesso? chiede Robinson. — Proveremo con questa formula. — Giro, giro mondo, sasso rotondo, chiuso in primavera. — Questo sogno si avvera! recita Ciliegio. Ed ecco che la pietra si muove, lasciando libero l'ingresso alla piramide. Il mago e il suo assistente entrano e procedono in silenzio, illuminando il passaggio con due lanterne. A un certo punto Robinson sussurra. — Ehi, Ciliegio! Guarda su! Sulla parete! — Oh, wow! Iscrizioni in alfabeto magico! Che scoperta fantastica! esclama entusiasta l'ognomo, che subito si mette a studiare le parole illuminate dalla lanterna del criceto. — Ma certo, certo! Ora è tutto, tutto chiaro! — Questi sono i segni che si leggono alla rovescia e dicono proprio — Se antiche storie vuoi ascoltare, con il libro magico devi parlare. — Ma io non vedo nessun libro magico qui! sospira deluso Robinson. Ma appena finita la frase, appare davanti a loro un grosso libro di marmo, con le pesanti pagine aperte. — Oh, wow! esclama Robinson stupito. — Beh, non ci resta che leggerlo, dice Ciliegio. — Ma... Le pagine si chiudono di scatto e Robinson ci resta quasi imprigionato. Nello stesso istante, una strana figura esce dal libro e dice — Ciao, sono il genio del libro segreto. Quale storia volete che vi legga? — Robinson non crede ai suoi occhi e alle sue orecchie. — Oh, ma conosci storie magiche? chiede timido. — Centomila antiche storie magiche. — Oh, beh, raccontaci pure quella che ami di più, chiede gentilmente Ciliegio. E il genio inizia subito a raccontare. Robinson sa già che tornerà spesso a trovare quel nuovo, magico amico. Siamo giunti al termine di questo racconto. Spero vi sia piaciuto. Ciao, bambini!